Dal Vangelo secondo Luca. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Dicono ma non fanno. Se c'è una cosa che Gesù rimprovera fortemente nei Vangeli, nei confronti dei farisei o dottori della legge che potremmo essere tranquillamente anche noi, nella nostra vita, nel nostro modo di fare altri, semplicemente altri farisei o altri dottori della legge se c'è una cosa che Gesù rimprovera è proprio l'incoerenza oppure l'apparenza oppure il fatto di soffermarsi in maniera eccessiva a dettagli che sono molto secondari e che non portano da nessuna parte soprattutto perché a volte questo porta a trascurare l'essenziale. E qui Gesù mette come essenziale la giustizia e l'amore di Dio. È interessante anche la sua affermazione su questo. Gesù dice queste erano le cose da fare parlando della giustizia e dell'amore di Dio ma accanto a questo dice senza trascurare quelle. Gesù non è contro la legge o contro delle regole da osservare se queste sono importanti ma che non sono l'ultima parola ma tutto questo devono aiutarci a vivere ancora meglio la nostra vita a portarci al cuore della questione a ciò che è fondamentale, a ciò che è essenziale. Se il mio modo di fare, di essere, la mia vita porta all'incontro vero e profondo con Dio potremmo dire allora a quel punto probabilmente può testimoniare sta testimoniando l'amore di Dio. Questo Gesù invita mentre rimprovera l'incoerenza o l'apparenza invita a non trascurare mai l'essenziale ciò che conta alla fine, in fin dei conti, nella nostra vita, nella nostra fede. Amén.